Avete visto che sono anche un po' fotografico, potrei cambiare il mestiere. Comunque un saluto a tutti, ben arrivati, penso che qui a Milano avremo un grande successo. Io credo che dobbiamo andare avanti con entusiasmo, credo che siamo partiti col piede giusto. Adesso andiamo avanti con la discussione perché è lunga. Grazie. Beh, intanto il Presidente di ICT ha concluso con un bel complimento. Andiamo avanti, ragazzi. Io ci aggiungo, andiamo avanti, ragazze. Quindi ragazzi e ragazze nella concia sicuramente assicureranno un grande futuro a questo settore che arriva dal passato, arriva dalla storia dell'uomo e quindi, come ho anche scritto nell'intervento pubblicato nel directory e quindi è un mestiere che continuerà a prescindere da quello che animalisti, ambientalisti potranno pensare, potranno credere. Un saluto dal Presidente dell'Associazione Ospitante Unione Nazionale Industria Conciaria, Cavaliere del Lavoro Gianni Russo. Buon ordine a tutti. Volevo, come Presidente dell'Associazione dell'Unione Nazionale Industria Conciaria, volevo ringraziare tutti gli amici, colleghi, clienti, addetti ai lavori presenti. Vedo che è una platea abbastanza numerosa, di ottimi osservatori, per cui come auspicava Rino Mastrotto i lavori saranno senz'altro interessanti, i temi sono importanti, abbiamo bisogno di tanto ottimismo, di tanta forza. Questo secondo congresso mondiale della pelle a Milano capita proprio in occasione dell'apertura domani di Linea Pelle, quindi invito tutti a visitare Linea Pelle, che per noi rappresenta veramente la più importante fiera al mondo, dove si verranno veramente i migliori prodotti di pelli al mondo. Poi c'è anche Expo, ovviamente, che è un momento anche di attrazione per la città. I momenti sono particolarmente complessi, c'è il gigante Cina che affanno e questo ci deve dare la forza di andare sempre più avanti, di lavorare sempre con la nostra passione e con la nostra dedizione. Buon lavoro a tutti e grazie.